Giang, spezza, andate via tutti, dai, dai, vai, io vedo cosa fa Ergard quest'anno, vado, eh Giang, niente, grazie, grazie, grazie. grazie, 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 grazie. Devo? Dai, vai Antonio. Dai, Edgard, vai davanti Antonio che gli insegna traiettoria prima della canale. prendi un po di... lascia andare un po di gente scisarine ora scisarine 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 Grazie a tutti. 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 Vai, 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 vai. Ignora, ignora questi esseri. Desta, di qua, di qua, come andare di qua. Dai, 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 su, te lì. Ehi, sicuro? Ti fermi prima, no? Fai boccate, fai boccate. Ehi, 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 ehi. Non mi devi ridere! Fermatini, fermatini! Fini tranquillo, manco! Fermati, fermati! Dentro a quel cile dell'acqua.